Esitare a colpire il topo per paura di rompere i vasi. C'era una volta un uomo che amava collezionare oggetti antichi e preziosi. Il suo tesoro più grande era una rarissima ciotola di giada molto apprezzata dai ricchi. Una notte però, senza che nessuno se ne accorgesse, un topolino saltò dentro la ciotola per mangiare degli avanzi. C'è un topo per paura di rompere la ciotola di giada molto apprezzata dai ricchi. Per rompere i vasi.